GAMALANGE POI 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 e poi ci sono i primi giorni da casa e poi ci sono i primi giorni e poi ci sono i primi giorni e quando ci sono i primi giorni e quando ti sopra, ti sopra, le tuare allora? Cosa? Sì Oh Si lo sopra, non ho fatto Non ho avuto un po' di stile e quando hai insieme a che non ho fatto e come ho detto E quando ti sopra E' un pio di cattolino che sia un paese che non c'est la prima cosa. Ma è il motivo che sei che è un pozo che vuole. Sì, è un pozo che vuole, non c'est la prima cosa. Non, non c'è una cosa, non c'è. Non c'è un pozo che vuole, non c'è un pozo. Non, non c'è un pozo che vuole. Non, non dov'è? Voi? Non, non c'è un pozo che vuole. Non, 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 non. e voglio che ci facciam, ci vado. Quindi, io ho faccio il testo, mi sono e mi sono portato, e ci serve per fare il suo lavoro. I amm, mi sono e l'ho passato... I amm. No, è che ora ci vanno a fare anche un'e Jordi, ci sono tutti i nostri figli. I amm, mi sono, Capitola. Non si può fare. 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 Ma, non? Non si può fare. Ma è tutto. Per questo, come metti sa che ha fatto un po' di lettura, e gli che ha fatto un po' di lettura, non si può metti sa che la metti sa che la pruva. Ma che è il po' di lettura. E' bellissimo. La dinosa siente! Si è venuto il pezzo che mi ha rifllitato in entro. C'è il favore che ci ha rifllitato, Niente? Questo il pomeriggio è SERIO DE LONO. Baracka! Daагоu Reva, ha detto che ci sono i mangiatori. are un commento che prima aveva i negativi. I hanno un po' di rischiare. Ma io sia una commenta che Richard, ma non sono un po' di rischiare. Per questo come un po' di rischiare. Che, di più, non lo so. Ma soltanto, se faccia la mano con una cosa. Ma sonora ci si rIEma-lomo? No, ma niente. Sapete bene con scopo? Salmo del cielo, E agora, non ancora bene. Noi non so, non solo si guarda. Ti si guarda l'amore Ma non so, ma non so. Noi non so, non so. Ma soltanto, ma o noia. Ma si so, non so, non so, ma non so. Ma non so, ah, non so. Ma non so, ma non so, non so. Ma non so. Ma so che non so. ed il mio padre e il mio padre lo vieni a fare che non lo so, il mio padre non lo so non lo so e' facile non lo so non lo so che non lo so non lo so e' stato un po' che ci senti che è stato un po' Non so se, se non si può riuscire a fare l'apria con un bambino Poi faremo un po' di energia E' altro scherzo E' di me dire che un po' di energia Quindi si puoi andare a cambiare l'apria Hai questa cosa? Vieni tutti! Vieni tutti! Vieni qua! Si è lui, ti è stato un po' lato Non si è venuta, non si è venuta e non si è venuta. Non si è venuta, non si è venuta. Sì, sì, sì. Wow... Hai, che hai, friend. Sì, hai, che hai, che hai, che hai, che hai. Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Non è vero. Sì, 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 non è vero. 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 Sottotto Sam Sottotto Sam Sottotto Sam Sottotto Kim Sottotto Kim Seizing Comme Sì, sì, sì No, no, no le compagni lo stesso, no le prende. Cosa cosaпервыхare? Cosa, ovunce. Sì. Hello? Inni? Non c'est lì, non c'est lì. Cosa? Allora, non? Cosa? Oh no, cagli! Cosa? 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 Oh, cagli! Cosa? Cosa, je me regrette vraiment. C'est une belle belle belle. Elle est une belle belle belle. Elle a eu des choses. C'est une belle 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 belle. Je suis une belle belle belle. Je ne sais pas si je n'ai pas vu ce qui a vu. Je ne sais pas si je n'ai pas vu ceci. Sì, non bisogna raggiungere il correcce perché sta avvando la mia mia vita di lui, dire che sei quello che vorrà... Dove lo stesso, questa è cambiata, non, Sì... Vuoi anche il che si deve essere... Quindi abbiamo e l'occhio per il segno di Luca e il? Mi piace, non. Mi piace, non? Mi piace, mi piace... Ci hai un po' con il di? Sì, che cosa vuoi? Sì, Mkulele. Mkulele ha impregnato me. E ha infecciato me con HIV. Sono positiva. Sono positiva. Ma, mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto? Mi ha detto che mi ha detto Mkulele. Sono positiva, Mkulele. Io davvero regretto questo giorno. E io sono sozziato con il cuore. Non, non, non. Non... Non, questo te fai messi. No, ti ho messi. Non, non? Non, non, non. Non, non, non il l'espo che qui ne poteva che cavale. Non, non, non. Non, non, non. Sì. Dove williamo che ha proprio il poli? No, 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 no.. No, no... No, no, no... Ma c'è il polis? C'è il polis? C'è la tua, in cui è il polis. Ci vuol ora! C'è il polis? No, non c'è il polis? Il polis è il polis? Non, how do you want to? Lei letà conse위 useri su di metis por te You have told us something like this Hey, 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 hey Hey hey, tale come to me I love this Yo I love this Si, come un po' ho avuto il fatto? Come, lo caldo! Perché i nostri spiegati! Non c'è chi è? No, non c'è chi è la parte? E' vicino? Non vè? Non vè? Non vè? Non vè? Cosa scopertà? Tu sei scopertare? Ma non? Ma non? Ma non? Ma non? Ma non? Questa è un'apparato? Cosa? Non? Cosa? Questa è un'apparato che ci sono? Ora, ragazzi, non ci sono un po' di più! Non, non ci sono stati per venire… Non, non, 6 anni… Quattro. Con lui il vicino! Quattro. Non, 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 non. Quattro. musica musica come colis si è dedico il fatto che ti sono davvero basso come colis No doاتvi Perleggiamo Ci simpare Ci ommi Mi sarebbe Ciao Ci sono Ci sono Ci sono Gli Ci sono 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 Grazie a tutti